ora questo video per il preview della settima giornata del campionato di calcio che poi si fermerà anzi si fermerà un po tutto per le nazionali e vediamo cosa quali risultati difficile di indovinare con precisione magari in schedina di 1x2 riuscirò a indovinare prima nelle corse precedenti ho fatto 8 punti all'inizio 9 e sono andato in crescendo arrivato a un 16,5 per l'1x2 l'avevano indovinate quasi tutte la volta scorsa scusate qualche agli ardenti continuano andare da una parte all'altra quindi non li sistemo più avevo sbagliato solo Empoli Fiorentina che avevo dato vittoria all'Empoli e Genoa Juventus che era un pareggio invece ha vinto la Juve andiamo a vedere le partite di questo weekend partiamo con Atalanta Genoa che si giocherà domani alle 18 la nostra Atalanta e vince con un secco 3 a 0 ho dato questo risultato alla luce del fatto che l'Atalanta deve comunque fare dei punti e viene appunto da una buonissima partita con lo Shakhtar il Genoa è col coltello fra i denti ma secondo me non basta solo quello l'unica cosa ovviamente che deve stare accorta l'Atalanta è in difesa speriamo che non faccia gli errori che ha fatto col Como insomma da esperienza in segna credo che sia una partita alla nostra portata anche che comunque dobbiamo giocarla tutta fino al novantesimo Bologna Parma Bologna che secondo me col Parma che ha perso col Cagliari credo proprio meritatamente Parma che si sta dimensionando rispetto alle partite iniziali e quindi credo che Bologna non riesca comunque a vincere in casa contro contro questo Parma un Parma che comunque darà comunque sempre del titolo da torcere come ho detto con tutte le altre squadre di media e bassa classifica quest'anno credo che siano abbastanza forti do leggermente meno al Venezia ma perché è partito un po' in sordina comunque abbiamo visto che anche a Roma ha fatto la sua partita e poteva addirittura portarsi a casa la vittoria invece la persa quindi 1 a 1 Fiorentina Milan Fiorentina Milan do un 1 a 0 per il Milan Milan che viene dalla sconfittata di Bayern Leverkusen però comunque credo che a Firenze è una Fiorentina che non ho visto poi come ha giocato in conference però comunque con New Saints non so chi siano però non credo che siano questa grande squadra non può contare molto la Fiorentina che fa fatica a giocare e Milan vincerà comunque non è sicuramente un campo facile per nessuno quindi gli do un 1 a 0 piuttosto che è una vittoria però credo che Milan a livello di forza poi sempre vince chi segna ma darei la vittoria pienamente al Milan anche se risicata Elas Verona Venezia che si gioca addirittura stasera mi sembra e quindi vedremo subito se questo risultato è giusto 2 a 2 quindi una partita brillante nel senso che succederà da una parte o dall'altra però secondo me si spartiscono le poste Verona che anche qua tutte e due sono delle squadre che potrebbero farle vedere e non vedere nel senso che sono un po' scostanti ho visto in queste prime partite, nelle prime 6 quindi darei un pareggio sia l'una che all'altra Venezia comunque si sta venendo fuori piano piano Inter-Torino 3 a 2 però comunque appunto anche qua ha perso 2 a 3 mi sembra con la Lazio e qui perderà 3 a 2 contro l'Inter e beh l'Inter comunque gioca a San Siro Torino che farà bene come l'ha fatto con Milan con Milan gli hanno pareggiato agli ultimi minuti e qui l'Inter comunque dimostra anche in Champions ma anche in campionato che più che la squadra secondo me ha dei valori proprio a livello individuale che gli faranno vincere la partita Juventus-Cagliari stavolta la Juventus vincerà ancora la do per... non so se avevo dato il pareggio stavolta la do per vinta perché comunque gioca in casa con il Cagliari però dico che il Cagliari a me è piaciuto le poche partite che ho visto quindi abbiamo visto che col Parma appunto l'ha vinta e speriamo che perda l'imbattibilità ecco non penso che perda nei pareggi però meno perda l'imbattibilità perché quello 0 lì sembra che la Juventus sia tutto anche a livello difensivo però a me non è piaciuta forse non è vero difensivo forse è la cosa migliore ma perché anche giovani dietro ma non... adesso io da un po' che non la vedo però le prime partite da Juventus non mi sono piaciute per niente per come giocava poi certo l'odio c'è sempre però sono realistico 2-1 Lazio-Empoli e qua diamo un risultato un po' incredibile nel senso che la Lazio che vince 3-4 da 0 non so qua si ha vinto in Europa League e continua a vincere anche in campionato almeno le ultime e secondo me è con l'Empoli è un Empoli che a me piace con il nero appunto al quinto che è un bravo come si chiama Gueye poi ha altri elementi veramente che fa sì che questo Empoli non farà secondo me dalla serata metà classifica alla fine del campionato ma darà più da torcere a tutti non è il borde dell'anno scorso quindi voglio dare questo risultato che secondo me è possibile a Roma contro la Lazio Monza-Roma Monza-Roma ancora al Monza probabilmente senza inizia a perdere un po' l'identità senza l'allenatore ovviamente anche Berlusconi così inizierà a perdere un po' l'identità e sarà uno dei pretendenti secondo me alla retrocessione perché sta perdendo diversi colpi da tutte le parti siamo a solo la settima giornata mi raccomando però la Roma vorrà riscattare anche la vittoria del Venezia però la sconfitta con l'Europa League sicuramente non si aspettavano Napoli-Como anche qui un risultato sorprendente ma giocherà le 6 e mezza quindi sto facendo il video adesso mancano 10 minuti sapremo subito se avrò ragione ma il Como inizia a fare un po' dopo secondo me calerà un po' però sai magari questa euforia si può ripercuotere a Napoli molto curioso di vedere questa partita perché perché vedere se Napoli veramente si possa allontanare iniziare a far vedere che realmente possa essere da scudetto però io non vedo quei grandi valori certo c'è la sveglia c'è diversa gente brava però Napoli di Oshiman e Graschi aveva decisamente una marcia in più quindi ecco metto un 3 a 2 per curiosità ma per vedere per me il Como sulla spinta delle due ultime partite ovviamente quella dell'Atalanta e quella altra del Verona qua ci metterà di tutto per mettere un po' paura alle grandi anche se poi ci sarà poi anche un calo sicuramente fisiologico perché è un Como che quest'anno può far bene ma non eccessivamente bene l'ultima è Udinese-Lecce è l'Udinese-Lecce che molto scostante anche lui penso che l'Udinese vuole riscattarsi dalle ultime sconfitte e quindi da un 3 a 1 secco da parte dell'Udinese che è una buona Udinese e può far bene sicuramente gli elementi e il gioco per poter portarsi a casa la partita poi non so se è un risultato così largo quindi niente vediamo cosa succederà poi avremo tutto il tempo per fare i nostri i nostri video con calma voglio fare un video su Gex & Kirken che sono andato a fare la trasferta e farlo bene anche se non ho fatto tantissime riprese però poi sul campo non è che sono messo a riprendere i gol intanto si vedono comunque su YouTube oppure in televisione ho ripreso le altre cose comunque sul campo e niente un video che riassume velocemente la trasferta anche per tenersi un ricordo vediamo poi faremo il riassunto di quello di quello che è la preview di oggi e poi visto che avrò il tempo sistemerò anche le classifiche delle previsioni vedendo dove sono in questo momento le squadre sia in Champions League che in campionato bene buon campionato a tutti prima della pausa per i calciofoli due settimane senza calcio quando comunque fanno partite tutti i giorni perché in queste due settimane facevano partite tutti i giorni oggi ce ne sono altre poi diventa un po' più faticoso rimane in resenza anche perché si fermano anche gli altri campionati bene buon campionato a tutti